Una sepoltura tomba accista con un'unurna cineraria risalente all'età del bronzo medio. E' questa la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza di Crotone sul letto del fiume Neto. Si tratta, a quanto confermato dall'ispettore onorario del MIBACT per la tutela archeologica del territorio pitagorico Paolo Nero Morelli, di una tomba molto antica, rarissima testimonianza risalente ad un periodo compreso tra il 1600 e il 1325 a.C., dunque molto tempo prima risposta rispetto all'arrivo dei Greci. La scoperta da parte dei finanzieri è avvenuta dopo un'accurata esplorazione che le ha condotti dal letto del fiume fino all'entroterra, poiché insospettiti dalla presenza saltuarie di alcune persone che si aggiravano nell'area negli ultimi giorni. Con questa azione si è scongiurato il pericolo di razzia da parte dei trafficanti di reperti archeologici. La soprintendenza per i beni culturali della Calabria, intervenuta immediatamente, ha già iniziato i rilievi documentali del contesto e le attività idonee a mettere in sicurezza il sito con l'ausilio di una restauratrice di beni culturali. Con questo ritrovamento dunque si va ad arricchire maggiormente il grande patrimonio culturale calabrese. Da Crotone per l'AC News24.